Sono pronti a riabbracciare il loro caro, forse domani pomeriggio a Ciampino, i familiari di Gino Pollicardo. La famiglia è partita da Monterosso alla volta di Roma questo pomeriggio intorno alle 14.30 in gran segreto, eludendo i giornalisti che da ieri si sono concentrati nel giardino della palazzina di via 4 Novembre. La situazione è ancora delicata e per questo la famiglia ha preferito non rilasciare dichiarazioni. La partenza è stata poi confermata attraverso un familiare, attraverso la voce della sorella di Gino, Marisa Pollicardo, rimasta a casa insieme all'anziano padre. A dirigersi verso Roma la moglie, Emma Aureliana, i figli Gino Junior e Jasmine e due nipoti, Gino e Dennis. L'arrivo di Gino e del compagno di lavoro, Filippo Calcagno, era atteso in un primo momento già nella serata di oggi, ma dalle ultime notizie pare che l'arrivo dovrà slittare a domani. Dopo l'annuncio di Renzi e dell'imminente ritorno da Tripoli hanno fatto sapere che ha tutto rinviato a dopo la conferenza stampa fissata per domani alle 12 a Sabrata, che servirà a fornire dettagli sulla liberazione dei due italiani. Intanto un piccolo aereo italiano è arrivato a Sabrata. C'è attesa intanto a Monterosso, dove la comunità ha deciso di posticipare la festa per il bentornato a Gino, per attendere il loro concittadino e per rispettare il lutto delle famiglie e dei due tecnici che invece sono rimasti uccisi. La dinamica della vicenda, sia per quel che riguarda l'uccisione, sia per la successiva liberazione di Policardo e Calcagno, non è stata ancora chiarita. Si sarebbe mossa una missione italiana per andare a riprendere i due tecnici in Libia, un paese dilaniato dalle violenze e dagli scontri. E stamattina, poco dopo le 9, Gino ha nuovamente chiamato la moglie al cellulare per rassicurarla «Non piangete più, tornerò presto», ha detto. Ha poi parlato con i figli chiedendo scusa a Jasmine per non essere stato presente il giorno del suo 18esimo compleanno. «Al mio rientro», ha detto, «Recupereremo con un'altra grande festa». «C'è voluto un po' di più, tornerò?»